Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Matt dp10 se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e non vi dimenticate di cliccare like al video e di seguirmi nella campanellina delle notifiche e di seguirmi se di cliccare sulla campanellina delle notifiche stavo pensando al follow perché su instagram ho aperto un profilo instagram dedicato al canale in cui vi posterò anticipazioni vi posterò spoiler insomma sui video che usciranno durante la giornata se vi va seguitemi Matt dp10 su instagram trovate la foto profilo con l'incona del mio canale ma dobbiamo parlare di quello che è successo durante la finale di coppa italia perché molti di voi se lo saranno dimenticati alcuni di voi invece ce l'avranno bene in mente come come il sottoscritto che ci pensa ormai da qualche giorno a fare questo video manzo che c'è buonucci in altro po arrivavano alle mani perché perché c'è stato un contrasto di gioco molto duro che ha coinvolto buonucci e manzo che c'è quanto ne so manzo che non avrebbe reagito bene anche grazie alle scorie che ci sono state 3 2 in aria in occasione del quarto gol della juve cioè dell'autogol di kalinic ci sono state diciamo delle provocazioni dirette da manzo che c'è buonucci perché manzo che continuava a colpire con delle spallate leggere al petto bonucci che appunto poi non ha reagito alle provocazioni che cosa dire sicuramente parliamo di due ragazzi che hanno avuto a che fare a cardiff perché la storiella secondo cui la juventus gioca bene il primo tempo della finale di champions league rientra negli spogliatori nel secondo tempo si trasforma in una squadra di brocchi prendendo nei 3 in 20 minuti è veramente una storia ragazzi che non regge ve lo sto dicendo dall'estate scorsa qualcosa in quello spogliatoio in quello spogliatoio è successa è una cosa sicuramente che molti hanno cercato di tenere nascosto si sa che a cardiff allegri bonucci hanno discusso ancora in particolar modo i presenti a cardiff hanno detto che bonucci dal campo urlava insulti nei confronti di allegri allegri faceva lo stesso dalla panchina ovviamente non so se possono essere giudicati veri ma chi c'era a cardiff mi ha detto queste cose qui nello spogliatoio negli ultimi giorni si stanno diffondendo altre voci nel senso si dice che manzukic sia stato uno dei primi a prendere le difese di di bala quando bonucci abbia attaccato di bala durante il secondo tempo della finale di cardiff e nell'intervallo tra primo e secondo tempo e l'avrebbe letteralmente appeso al muro ma non perché vogliamo dire che ci ha menato ma proprio c'è stato un confronto fisico tra i due che è arrivato a un minuto proprio dalla rissa sfiorata manzukic si sarebbe messo in mezzo dall'altra parte si sarebbero messi in mezzo altre persone tra cui anche buffon e quindi i rapporti tra manzukic e bonucci si sarebbero rovinati in occasione di questa cosa qui una cosa che sinceramente all'inizio facevo fatica a credere però dopo aver visto quello che è successo in finale con determinati atteggiamenti io credo che sia ancora di più una conferma su qualcosa che è successo in quello spogliatoio ovviamente io la situazione le ho sviscerate tutte se ci saranno nuovi argomenti su cui parlare se ci saranno nuove news sulla vicenda io comunque ve le posterò sul canale come ho fatto l'estate scorso in cui ho sviscerato tutta la faccenda fatemi sapere che cosa ne pensate voi credete alla rissa tra bonucci e di bala ma soprattutto credete alla rissa tra manzukic e bonucci fatemi sapere qui sotto nei commenti Grazie